Alcuni interrogativi che si pongono i due protagonisti della vincente storia che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultima scena. Trappola per topi, una produzione della compagnia AIM Teatro Il Cielo di Carta, con la regia e il testo di Ana Maria Dipinto e l'interpretazione della stessa Dipinto e di Luigi Laforgia, andrà in scena il 13 gennaio al Piccolo Teatro di Bari, uno spazio scenico in cui il tempo viene allullato e che ingoia i protagonisti come in un quadro, in un meccanismo ad orologeria. Nello spettacolo viene superata l'ambientazione naturalistica e borghese di un salotto, ma viene sperimentato uno spazio total white, dove tutte le azioni sono studiate e programmate e danno vita ad una storia di relazioni di coppia, dinamiche e delittuose, di tipo contemporaneo ma dal sapore antico. Attraverso il serrato dialogo e continui colpi di scena si fa strada una verità in attesa. Lo spettatore si trova continuamente spiazzato, le luci sempre più crepuscolari e le musiche sempre più ossessive. I suoni e i rumori delle azioni porteranno in un mondo dove mentire è chiaramente un gioco. Da moderna commedia noir con trappola per topi si tenta di entrare in una tragedia antica, quella della guerra di coppia, che tocca i temi dell'abbandono, della salvezza e del possesso in alcuni passaggi anche grottesca.